Il sacramento della Cresima 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 Pilato disse ai giudei Ecco il vostro re Ma quelli gridarono Via, via, crocifiggilo Ave Maria, piena di grazie Signore con te, tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Disse loro Pilato, metterò in croce il vostro re Risposero i suoi sacerdoti, non abbiamo altro re all'infuori di Cesare Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del seno tuo Gesù E benedetto è il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Pilato, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla Non sono responsabile di questo sangue Vedetevela voi Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Allora lo consegnò loro Perché fosse crocifisso Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame Benediciamo il Signore Rendiamo grazie a Dio Con questo saluto si conclude la nostra preghiera L'appuntamento è per domani sera alla stessa ora Grazie a Dio